Allora, c'è Claudio, Davide? Grandi Claudio Sì, c'è anche Pier Giardi Beh, Pier alla fine, Pier alla fine Ecco qua, ecco qua Ciao Claudio Ciao a tutti È un onore, è un onore per noi averti Grazie Claudio, allora Avrei preferito il fotografo della nazionale inglese ma mi accontento Allora, mettiamo la chat sullo sub Claudio, grazie mille Grazie anche a Manuelina Che insomma, con la quale sei in contatto Sei interista, prima domanda No, non sono tifoso di nessuna squadra Sei ateo, come me Solo una nazionale Guarda la chat abbastanza urgente Allora, allora Abbiamo il fotografo Ufficiale della nazionale Cioè, quello Che ha realizzato i sogni di tutti i fotografi Perché ha seguito la nazionale E nella cavalcata l'europeo Esatto Da quanto sei il fotografo ufficiale nazionale? Scusami se non sono informato di questo Allora, praticamente stiamo dal 2004 Ah, quindi si è visto pure i mondiali Sì, sì, ho vinto già un mondiale E un europeo Claudio, ma ci racconti come Cioè, come si diventa Un attimo Fotografi della nazionale di calcio Perché oggi le foto le fanno tutti In un mondo di social Come nasce? Questo è abbastanza lungo Poi una volta era ancora più lungo Diciamo adesso La gavetta Molti tentano di Di scavalcarla Però in realtà Per arrivare A certe posizioni Bisogna Bisogna fare tanta gavetta E per arrivare a nazionale Diciamo che ne ho fatta tanta Ma, cioè Come gavetta Intendi che devi Cioè, tipo Adesso mi viene in mente Scusa l'offesa Tipo Corona, no? Che devi fare tipo dei ricatti Cioè, raccontaci com'è l'iter Perché uno da fuori dice Maga un curriculum Guarda che con una domanda Sei riuscito a offenderne due Perché lui E quello gli hai detto No, no Per offendere Quindi ho fatto anche questo Quindi Diciamo che io sono arrivato Sono arrivato Dove In tutti i posti Sono arrivato Per la mia professionalità Diciamo E per fortuna C'è qualcuno Che guarda ancora Questo lato Delle professioni Non è sempre così Però diciamo che E quindi Per quanto riguarda la nazionale Io già la seguivo Prima Ma a livello amatoriale Oppure Per un giornale No, no, no Era un fotografo Lavoravo per una Piccola agenzia E quindi seguivo Diciamo Tutte le partite Vari europei Ho fatto i mondiali Del 98 C'è anche cose precedenti E quindi chiaramente Entri in contatto Anche con le persone Della nazionale E piano piano Cioè È acquistato Diciamo La Sei andato a fare il battesimo A qualcuno È una battuta Però dico Cioè devi fare dei favori A qualcuno O no? No, no Assolutamente Non è la mia Nel mio carattere È la mia indole Quindi Cioè No perché qua Abbiamo gente che fa Battesimi Matrimoni Per scalare le posizioni È un A chi ti riferisci? È il gioco Grazie Frabusa Lui battesimi Non ne ha fatti Però c'è una frase Che adesso lui Sicuramente ricorderà Perché l'ha rilasciata In un'intervista Trovarsi al posto giusto Al momento giusto Sai di cosa Sai di cosa sto parlando No Claudio? Io sono interista Lo sai Sì 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 Lo so Lo so Beh ci sono stati I vari momenti Dove era il posto giusto Nel momento giusto A cominciare dal 2006 Quando la Coppa del Mondo La solleva Uno che è anche Un tuo amico E quindi diciamo Quello è stato L'apoteosi Poi ce ne sono stati Molti altri E questo è di L'ultimo successo L'11 luglio No Claudio Mi dici qual è Che così la vado a recuperare Che ce la vediamo Perché quella diciamo Ci sono degli scatti Che ti hanno cambiato la vita Cioè che ti hanno dato Una percezione diversa Perché proprio È un tema Dove noi siamo Proprio molto profani Facciamo schifo su tutto Ma su questo Immagino Che tu vuoi andare A insultare Ma invece dici No È tipo Sei presente l'influenza Che dico Un momento bello Ma mi devo fare il selfie Più o meno Tu dici Non posso andare A gridare Perché devo fare la foto Bella Ecco Il momento Momenti Ci sono stati Tanti Però è chiaro Che è tutta Una serie di momenti Che creano La tua professione La tua carriera Cioè non posso Cioè non c'è stato Un momento Che diciamo Ha esaltato La mia carriera Cioè sono tutti Questi elementi E che anni dopo anni Servizio dopo servizio Creano la tua Professionalità E la tua carriera Cioè poi certo Se devo estrapolare Alcuni momenti Ce ne sono Ce ne sono parecchi Cioè certo Qual è stata Tipo Cioè la prima foto Che ti hanno messo In copertina Andiamo molto indietro Però mi ricordo Non è finita in copertina Però è una È una di quelle Che all'epoca Mi ha dato Molta soddisfazione Anche a livello Economico È una foto Di un'esultanza Di Maldini Paolo Naturalmente Per una pubblicità Della Nike Quindi stiamo parlando Anche perché Di quelle del figlio Penso che passeranno anni Per vedere No no Ok La sto cercando Mi la racconti un attimo Com'era Che voglio vedere Se me la ricordo Cioè se è così Emblematica Ma è in bianco e nero Sta foto qua No 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 Colori È una pubblicità Della Nike Che utilizzo A livello Forse anche mondiale Quindi La partita Sicuramente Probabilmente era Trieste La città Però adesso Andiamo troppo indietro Anche se lo sapevo prima Me la preparavo E ve la facevo vedere Ma no Ma non ti preoccupare Ma che partita Ti hai detto che non se lo ricorda Manfred Ma porca miseria Ma l'ascolti A Trieste Però sinceramente Non lo ricordo Ah quindi con la Triestina Allora È una pubblicazione Di qualcosa Ah ok Ok Non riuscivo a capire Claudio Quanto hanno inciso Oggi L'avvento dei social Nel tuo lavoro Perché oggi Le fotografie Diciamo Le può rubare Un po' chiunque No Praticamente tutti Ora Sì una volta Era più difficile Quando chiaramente C'era la pellicola Erano costretti A venire da te Per avere la tua foto Adesso basta Che vanno su internet E la prendono Cioè Perché purtroppo Però diciamo Ti fa anche gioco Perché comunque Alla fine Diciamo Molti giocatori Ti conoscono Anche Per quello Perché essendoci social Diciamo Hai questa Questa popolarità Tra virgolette Insomma Infatti molti giocatori Di Serie A Ma mi seguono Anche se non Non sono il fotografo La loro squadra Perché mi conosco A livello professionale Insomma Ma quanto Cioè tu glielo chiedi Ogni tanto il tag Perché è sempre Una roba che un po' Ci si vergogna Chiederlo Però per uno come te Diciamo che proprio È quasi un attestato Di certificazione Io sono timido Di natura Cioè Si 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 vede anche E Non Non chiedo No No Qualche uno Ci arriva di suo A mettere il tag Altri Manco il grazie Però purtroppo Devi chiederlo Adesso Ma c'è una firma Digitale che tu fai Perché adesso Allora inizieremo noi Sotto tutte le foto Dei calciatori Dove non ti taggano È vero Tagga Claudio Tagga Claudio Vergognati No il problema È che io lavorando Per un'agenzia Più importante Al mondo Che non faccio i nomi Però è quella No ma falli Quali puoi fare Non ti preoccupare Vabbè è talmente famosa Che non ha bisogno di pubblicità Get Images Che ce l'ha Ah sì Nettamente E le mie foto Sono tutte lì E purtroppo da lì Molti riescono A prenderle E anche eliminare E eliminare I tag E eliminare Il nome del fotografo Quindi Sì adesso Dopo facciamo un tutorial Su come si fa Perché io conosco vari Che fanno così Che le croppano In avanti E te le tagliano Ci racconti un attimo Invece Cioè come si fa A entrare In quel mondo lì E per uno che vuole iniziare Che business c'è Senza andare Ho letto qualcuno Che dice Quanto prendi a foto Che mi sembra poco carina Però la leggo Perché pagano Questi qua che scrivono Quindi dovevo leggerla Però Diciamo che Negli anni È una professione Che purtroppo Sta andando Al ribasso Diciamo che Anni fa La foto Dieci anni fa Faccio un esempio Pratico Alla foto A un giornale Tipo la gazzetta Dello sport Costava Molto Ma molto Di più E questo è paradossale Perché Nei dieci anni In teoria Dovrebbe come minimo Rimanere Allo stesso prezzo O aumentare E invece È sempre Una corsa Al ribasso Perché Il digitale Ha portato Diciamo Un appiattimento Anche Della qualità Però ha aumentato L'offerta Per i giornali Per i siti Diciamo che è stato Un business È diventato un business Riescono a avere di più Spendendo meno Anche se E comunque Si accontentano Di meno qualità Cioè Purtroppo Per i veri professionisti Questa cosa Ci ha un po' Dalleggiato Però purtroppo Non ci possiamo Fare nulla Cioè il progresso Va avanti Ed è così Cioè Invece Sui diritti Come funziona Get Image Per capire Perché io so Che da Diciamo Da utente Che vuole avere accesso A quella banca Dati lì Di foto Dove ci sono Vari fotografi Ovviamente Costa Ma se non mi sbaglio Tipo 300 euro Al mese No dipende Ci sono tantissime Tantissime possibilità Infatti ho detto Non è cazzato Ho detto perché Costava tanto Dipende sempre Dall'uso della foto Perché se tu compri Una foto Per uso internet In realtà costa Si può comprare Anche solo una foto Sì 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 Volendo una Ok Pensavo funzionasse Tipo abbonamento Che tu vai C'è anche quella Malaria italiana Ci stavo arrivando Chiaramente se tu fai Ci sono vari pacchetti Che sono più convenienti Cioè capite Se tu prendi più foto In un pacchetto Chiaramente vai La foto alla fine Ti viene a costare meno Dipende L'uso L'uso Di cui uno Deve fare Beh c'è un bel mondo Dietro No no Direi Anche perché Diciamo ormai I social si reggono Sulle fotografie E sui video 300 euro Per due foto Dico L'altro Immaginate chi Vabbè Grazie Domek E un'altra domanda Che non so Manu o Manfa Se lavate voi Perché io Essendo nel mondo Delle immagini Viaggio un botto Però se volete fare C'è anche il Miga Del backstage Ah facciamolo entrare Assolutamente anche il Miga Che è un grande Io più che una domanda Dopo la domanda di Manuela Ti faccio vedere La tua foto Che è la mia preferita Allora Ne leggo una Della chat Intanto Che dicono Claudio Potreste chiedere a Claudio Qual è stato il momento Più emozionante Per lui Di questo Euro 2020 Vabbè Diciamo che Nell'insieme È stata un'esperienza Incredibile Perché è stata la prima volta Che io facevo parte Dello staff Quindi Integrata Ero integrato Col team Quindi ho vissuto Praticamente 50 giorni Perché sono stati Certamente 50 giorni Dall'inizio del ritiro In Sardegna Alle visite Da Draghi Da Mattarella Il giorno dopo Così 50 giorni che ho vissuto Insieme ai giocatori Quindi diciamo che È stata un'esperienza Veramente Incredibile Che porterò Sempre con me L'apoteosi Quando hanno alzato la coppa Claudio Mi permetti di chiederti Una roba Visto questa tua affermazione Visto che tu hai vissuto Tutti quei 50 giorni Lì C'è stato un momento In cui L'aria che si respirava Che hai detto Magari non l'hai detto In faccia a nessuno Te lo sei prenduto Per te Però che si sentiva Un profumo Che dici Cazzo Questi qua È il gruppo giusto Guarda In realtà no La cosa che A cui pensavano In tanti Era che In questo gruppo C'era troppa serenità Troppa tranquillità Tutto andava bene E tu sai Voi sapete Che in passato L'Italia ha vinto Solo Quando c'erano problemi Nel 2006 Nell'82 Dove c'erano scandali Prima E quindi tutti dicevano Cioè Tutto va troppo bene Cioè In realtà invece Non è veramente Questo L'ha detto anche Mancini L'hanno detto tutti Cioè L'ambiente era perfetto Si è creato Praticamente Un'atmosfera incredibile E E tutto è andato Benissimo Fino alla fine Cioè E i ragazzi come sono Invece A camera spente Perché sai Noi siamo abituati A vederli tutti Molto abbottonati No Quando fanno Le dichiarazioni Alla stampa Ma Veramente il gruppo Era fantastico Veramente il gruppo Era fantastico Grazie a Claudio Canyon E i risultati I risultati Comunque lo dimostrano Perché se non c'è Veramente un gruppo Coeso Se solo c'è Qualcosa Un paio di giocatori Dentro Che non vanno d'accordo Con gli altri Già Lo vedi sul campo Invece Tutto è stato perfetto Quindi Ti garantisco Che tutti i ragazzi Erano Era veramente Perfetti Grazie Claudio Manu Miga Non so se vuoi Perché Claudio c'ha 8 minuti So E volevo fargli Incontrare anche Pierre Tra l'altro Sì dai Allora Facciamogli incontrare Allora Condividiamo Condividiamo Però Vai Miga Vai scusami No una cosa al volo Se può essere Che la foto di Maldini Che è stata usata Da Nike Da Nike Fosse del 96 Tipo Perché nel 96 Ci siamo Maldini Avevano fatto Una campagna Del fatto che Il portiere dell'Italia Era il lavoro Più Facile del mondo Con la faccia Di Maldini Quindi Ho pensato Potesse essere Quella Come periodo Ci siamo Comunque era una foto Di sua Comunque in campo Esultante Che professionista Miga Claudio ma dove lo trovi Un podcast Così di professionisti Non so che cosa si Davide Davide Fai vedere La mia foto preferita Ma sai che Rischio di fare una gaff Non so se è proprio Quella che hai fatto tu Sì sì Era mia E allora No Tu te ne sei accorto Subito Quando la sei andata A sviluppare Che c'era questo Perso Io sto facendo Adesso non mi ricordo Era dopo la partita Spagna Dopo la Spagna Ok quindi Stavo facendo la foto Di tutto il gruppo Tutti arrivavano Tutti arrivavano Quindi c'è Stai a vedere Io nelle foto Poi mi sono accorto Di questa scena Incredibile Di Marco Che prima abbraccia Questo E poi dopo Dico Facciamo entrare Anche Damiano Che ho visto Che in chat No niente Damiano e Piergiani Anche Piergiani Allora Siamo qua per farti Incontrare questo personaggio Che è un ragazzo Che lavora a Londra E ha un sogno Che forse solo tu Ci puoi aiutare A realizzarlo Non è economico E non vuoi anche rubarti Delle immagini Su GettyMage Anche perché una Te l'ha appena rubata L'hai vista Quindi Sì È che c'è MSN aperto No È MSN Il mio Skype Davide Chi ti chiama su Skype Emanuele La prossima live Che devo fare Portineria C'è Piergiani Sì Lo faccio entrare Senti quando si accende Lo stiamo chiamando Da un'ora Porca miseria Sei un po' teso Eccolo qua Eccolo qua Proprio lui Eccolo Allora Pier C'è un destino Assurdo Che è la vita Che vi lega A voi due Perché A Claudio probabilmente Non gli frega niente Però grazie alla tua foto Piergiani È diventato Diciamo Un meme di internet Completamente Soprattutto nel periodo europeo Complice anche alla vittoria Così Beh intanto ciao Mi fa piacere Vederti Ci eravamo già visti sul campo Anche se non avevo notato Subito La tua presenza Ma l'avevi scambiato All'inizio per insigne E' claro Perché si diceva Quella cosa lì Un po' Sì no Poi Tra i giocatori Dopo prendevano in giro Sì Dicevano questa battuta Che Marco Aveva scambiato Piergiani Per Lorenzo Quindi Allora noi abbiamo Allora noi Piergiani Pier Non fare il timido Che sei fatto Invasione di campo Con 46 birre Ho capito che È un orario Che non è adatto Racconta un attimo Il tuo sogno Perché noi avevamo Un impegno con te Abbiamo cercato Di rispettarlo Sì Avrei voluto incontrare Qualcuno Dei ragazzi Specifichiamo Specifichiamo Per vediamo Questo è un sogno Incredibile Vediamo se lo possiamo Rendere fattivo Specifichiamo Che lui è di Londra Vabbè Quindi io adesso Faccio due più due Dei campioni del mondo A Londra Ce ne sono due Se non erro Vabbè io torno Torno in Italia Tra poco Sì Sì torno in Italia Stava dicendo una cosa Claudio Aspetta un attimo Claudio Vai Claudio Mandaci pure a quel paese L'Europa E ne è rimasto uno E ne è rimasto uno Ah Europa scusami Emerson Palmieri È andato a Lione Me ne ero addirittura scordato È solo Giorginio Sì Claudio ti volevo dire una cosa Ma tu Diciamo Verratti Lo conosci proprio Come magari io conosco La Manu Manfredi Miga c'è un bel rapporto Adesso è tanto Come conosci loro Comunque lo conosco Cioè lo conosco Da parecchio Perché Cioè io l'ho fotografato Per esempio Quando giocavo nel Pescara Ah Per esempio Quindi cioè In nazionale ho fatto Tutto il suo percorso Quindi Marco lo conosco bene Cioè certo Perché secondo me Pier Se noi Tanti altri Sì Pier Secondo me Se tu andassi a Parigi Che è vicinissimo Tra l'altro La mezzoletta di macchina Se tu hai un sogno E noi ti diamo L'opportunità Di coronare il sogno Cioè però Dopo non è che puoi fermarti Questo vive a Londra Che pagherà 70 mila euro Da affitto Un consiglio Io avrei un'altra idea Se mi permetto Vai Claudio Vai Claudio A ottobre ci sarà La nazionale Che comunque è a Milano Ah Magari è lì più facile Oh ma questo È spettacolare Pier Gio A ottobre potresti essere a Milano Io sarò a Milano Dal 2 al 7 novembre Eh ho capito Però la nazionale Che la possiamo spostare Perché eri di tu Ma stiamo a la nazionale Avevo un consiglio Allora adesso Sentiamo da Mancini Però secondo Davide Leggila tu la donazione Davide Sì Ma Pia Gianni è una proposta Avevo un consiglio io Un attimo Un attimo Che ci leggi la donazione Davide Vai Allora ho messo Daviano Ciao Davide Un amore così grande Un amore così grande Claudio Villa Non sei tu ma mi ricordi tanto quello Tanto l'avranno fatto poche volte in carriera Comunque come roba Vabbè Dimmi Davide Finisci L'ho letto Mia nonna sa ascoltare Comunque buongiorno a tutti Ciao Davide Buongiorno Ma quindi questa proposta qual è? Non ho capito Aspetta che dobbiamo ringraziare un Cristo che ha donato Ma vabbè quanto ha donato? Un milione che aspettiamo Ma perché deve andare Non puoi parlare Davide Dobbiamo andare via Dai Allora velocissimo Chiede chi è il calciatore con cui hai parlato di più durante gli europei E APR ti chiede quanto ti è andato di DASPO Vai Claudio vai prima te Vai prima Claudio Guarda paradossalmente con Con chi imparo di più è forse Mancini Rispetto ai giocatori Ci sto Giocatori Quasi tutti Comunque Li saluto Ci parlo Bastone diciamo Se devo seguire un calciatore Bastone Alessandro Bene Vai Pier Dici quanto ti è andato di DASPO E decidiamo che A me fortunatamente hanno annullato tutto Quindi posso fare Bene Vai col consiglio Qual era il tuo consiglio? Il mio? Sì Metti il muto Non è che Il consiglio sarebbe Sarò a Milano dal 2 al 7 novembre A vedere il Mila Quindi Florenzi È stato uno di quelli Magari sarebbe Ti voleva fare entrare Quando c'era la nazionale Piero Ma io non posso Torno qua Paga 70 mila euro D'affitto al mese A Londra Dai ragazzi 10 ottobre di lavorare E torno in Italia Allora ragazzi Ma se no Allora io adesso sto facendo Un freestyle Io non so quanto costa Però ci sono tante volte Degli offerte Se noi ti paghiamo il biglietto Per Londra Noi come canale No Tu ci vai E poi torni indietro Però dormi tipo A casa di Manfredi A Milano Cioè non è che Hai paura di pitbull? Hai pitbull? Sì Allora no Allora non può Vabbè A me lo troviamo Una casa La trovi Ma per quando? Per quando? Per una giornata Il giorno che C'è la Quando gioca la nazionale? Eh quando gioca la nazionale Quella la domanda La nazionale gioca il 6 Mi sembra Però quindi è lì I giorni precedenti Quindi Poi ci sentiamo in privato Pierre Però così lo incontri davvero Italia Spagna No vabbè Italia Spagna È Nations League però Sì sì Un'arroganza Pierre è diventato Ah c'è il 6 ottobre Aspetta che condividiamo Il profilo di Claudio Manfred se ce l'hai Sì al volo Ve lo faccio vedere Un attimo solo Ecco ce l'ho io Ce l'ho io Seguitelo Ve lo metto anche in chat Ragazzi Tra l'altro C'è bellissimo In questa foto profilo Giustamente Vabbè anche dal vivo Ragazzi Allora seguitelo su Instagram E quando mette le foto Dei calciatori E loro non lo taggano Scrivete sotto la foto Dei calciatori Ma il miglior fotografo Al mondo Non lo taghi Grazie mille Claude Grazie a voi Grazie Ciao Buon lavoro Anche a voi Ciao ragazzi Ciao Piergiani muoviti Ad accettare l'offerta Che se no Va Damiano A posto tuo Accetto No No No